Alessandro Di Federico, domenica affronterete il Teramo, la capolista, sicuramente le motivazioni non mancano per fare una bella partita. No, le motivazioni non mancano, diciamo una partita che si prepara da sola anche durante la settimana. Giustamente tutti vogliono giocarle queste partite, quindi è una settimana intensa, ci stiamo allenando bene, siamo carichi. Sì, arriviamo a domenica che sarà una partita in cui proveremo sicuramente a fare il risultato, proveremo a recuperare dei punti persi domenica con la vastese, anche se sappiamo che sicuramente sarà difficilissimo. Proveremo a giocare poi quello che uscirà, però sicuramente daremo tutto. Vi aspettano comunque tante partite importanti ancora per cercare di raggiungere l'obiettivo playoff? Sì, sì, esatto. Peccato appunto per domenica scorsa, che anche quella era una di quelle partite che se portavamo punti a casa ci davano una spinta in più, diciamo, però abbiamo ancora tante partite e quindi proveremo da domenica appunto anche se è il Teramo, proveremo sicuramente a far punti per provare a raggiungere un obiettivo che è quella di parte dei playoff, ma puttacaso non si dovessero fare, sembra arrivare nelle zone alte della classifica dal quinto posto in su.